La Juventus in crescita vuol dare continuità ai recenti successi. Ancelotti schiera un 3-4-1-2 con Birindelli in difesa al posto di Montero ed è Sneijder rifinitore in sostituzione dello squalificato Zidane. Nel Bari Faschetti, che ieri ha compiuto 61 anni, adotta l'1-3-4-2, manda in campo Madsen al posto dell'indisponibile con l'auto. Arbitra Bolognino. La prima iniziativa è della Juventus con il tandem del Piero, ancora in Zaghi, che calcia oltre la traversa. Il Bari replica con un angolo di Madsen e un colpo di testa di Anderson che impegna Van der Sar. Duello aereo Conte-Anderson, al peggio il capitano della Juventus, che rimane qualche minuto stordito, ma poi riprenderà regolarmente il suo posto, nulla di grave per lui. Ecco Conte che esce, poi al sedicesimo esce Ferrara e lascia il suo posto a Tudor. Lungo rilancio di Zambrotta in direzione di Inzaghi, protesta il centravanti della Juve nei confronti di Bolognino per un presunto fallo di mano di Garzia, ma l'arbitro lascia proseguire. Dal ventunesimo la Juve va in vantaggio con uno scambio del Piero Pessotto che manda in rete, trafigge Mancini con un gran tiro dal limite. La difesa del Bari non riesce a scalare, per Pessotto il primo gol in campionato, il terzo in Serie A. Poi si fa male Sneijder e al suo posto entra Olisei, la Juve passa al modulo tattico 3-5-2. Il Bari si porta in avanti con Del Grosso che mette al centro il tocco di Osmanowski, ma Anderson, disturbato da Pessotto, non riesce a correggere la traiettoria. Fascetti gioca la carta della terza punta spinesi e manda negli spogliatoi Del Grosso, un difensore, ma è la Juve che sfiora il raddoppio da Inzaghi a Conte che tutto solo non riesce a concretizzare. Si salva il Bari con Garzia e Innocenti. Con le immagini montate da Aldo Fracasso passiamo al secondo tempo che inizia sempre sotto il segno della Juventus, dell'ex Zambrotta che subito impegna Mancini che riesce a respingere. Ancora Zambrotta va alla conclusione, ma l'arbitro aveva fermato il gioco. Poi nel Bari esce Malzen, entra Giorgetti, Fascetti cerca di dare incisività sulle corsie esterre, ma è ancora la Juventus con Inzaghi che si fa pericoloso, ma si lamenta Del Piero tutto solo al centro dell'aria. Ancora Del Piero dalla bandierina e Tudor non riesce a centrare la porta nella circostanza. Lungo rilancio di Innocenti, spizzicata di Mazinga per spinesi, ma Van der Sar riesce a salvarsi in angolo nella circostanza. Punizione di Osmanowski è trattenuto da Juliano Mazinga, protesta il sudafricano, ma per Bolognino non c'è azione irregolare, mentre ancora la Juventus sempre con l'ex Zambrotta ad impensierire Mancini. Sempre la Juve Del Piero che ha disputato una buona partita, anche se non è al top della condizione, ma i brevissimi Mancini nella circostanza sul tocco a volo di Conte. Poi al quarantesimo si addormenta un po' la difesa della Juventus, caparbi all'azione di Spinesi, Marchi centrato nella ripresa viene atterrato da Juliano, la punizione la batte lo stesso Spinesi che trova un barco nella barriera e realizza la rete dell'1-1 al quarantesimo minuto. Vedete c'è anche un impercettibile tocco da parte di Pessotto. Poi entra Kovacevic e dopo un minuto per questa manata ad Anderson viene espulso dall'arbitro Bolognino. Dunque la Juventus ha perso Kovacevic nella fase...